Con l'inizio della stagione estiva tutti chi più o chi meno cominciano a fare le pubblicità per invogliare la gente a venire in vacanza in Sardegna. E tra quelli che fanno pubblicità ci sono anche gli organi istituzionali. Io non lo so, io sono sarda, amo la mia terra, però ogni volta che vedo le pubblicità istituzionali, mi riferisco a quella appena pubblicata dalla regione Sardegna, poi vi metto il link nelle note del programma, che mi viene proprio un groppo allo stomaco perché mi sembra sempre una cosa terribilmente retorica, banale, che ripete sempre le stesse cose. Forse è anche il tono di voce degli speakers che si scelgono per queste campagne, che sono degli speaker che sembrano degli attori presi dal palco del teatro con la voce impostata, che da sarda non mi sento assolutamente rappresentata perché, lo ricordiamo, non esiste l'italiano puro senza accento regionale, solo che quello che noi diciamo, ah questo è l'italiano senza accento, in effetti è l'italiano dantesco, più o meno. Quindi io non mi sento rappresentata da queste persone che studiano audizioni a Milano e poi leggono le pubblicità per invogliare la gente a venire in Sardegna. E l'ultima pubblicità messa in giro dalla regione Sardegna ha una voce di uomo che sembra stia facendo un film per adulti, una voce molto così, veramente. E poi, non so, forse sono io che ho una sensibilità esagerata, però mi sembra veramente che si ripetano sempre la stessa accozzaglia di cose. E che i sardi sono un popolo fiero e antico, e che siamo generosi, e che l'ospitalità è sacra, e i saperi e i sapori. Mamma mia, e basta, ma è possibile che non vi rendiate conto che nel momento stesso in cui cominciate a pronunciare la frase, chi ascolta sa già come andrà a finire, non c'è nessun tipo di sorpresa, non c'è nessun tipo di meraviglia, non stupite nessuno, dite cose che sono appunto trite e ritrite. Forse sarebbe meglio concentrarsi un po' più sulle azioni e far sì che quel museo a cielo aperto, che è in effetti la Sardegna, sia piena di tradizioni, ma porca miseria, mettiamo le persone che vengono a visitare la Sardegna nelle condizioni di andarsele a vedere queste cose meravigliose. Pensiamo a una rete di trasporti pubblici che la gente non abbia bisogno di affittarsi una macchina per andare dal punto A al punto B. Pensiamo a musei che non chiudono per l'ora di pranzo e riaprono alle 4 di pomeriggio. Magari questo sarebbe una cosa più interessante da fare.